Il fatto che non ci sia Ebrahimovic è sempre un vantaggio per la squadra che affronta una squadra che non ha Ebrahimovic. Io anche a 40 anni, anche con una gamba rotta, Ebrahimovic contro non lo vorrei mai. Quindi potrebbe essere un vantaggio, meglio che non ci sia per noi. Però non è così sconosciuta a noi questa squadra. Noi li conosciamo bene, alcuni giocano in Italia, alcuni giocano in Europa in campionati importantissimi. Non è una squadra sconosciuta, non è una squadra materasso. Se il Mondiale è importante per me, che ne ho fatti già tre, penso che sarà ancora più importante per i giocatori da Svezia, che magari hanno fatti di meno, hanno avuto meno opportunità di mostrarsi al grande palcoscenico mondiale. Quindi sappiamo che daranno veramente tutto e noi dobbiamo essere pronti a dare tanto quanto daranno loro. Grazie. Grazie.